Buongiorno a tutti, benvenuti, possiamo iniziare. Iniziamo da Angelo Mangiante di Sky Sport. Eccoci, buongiorno a tutti. È stata una partita durissima proprio sotto il profilo fisico e nervoso, quindi come sta a livello generale la squadra se qualcuno oltre a Iorente magari non è riuscito a recuperare e quindi comunque come sarà gestito soprattutto il turnover? La squadra sta bene di testa, siamo tutti molto contenti, c'è entusiasmo. Si sta bene dentro lo spogliatoio, come succede sempre quando vinci una partita con così tanto pathos, però sicuramente qualche strascico fisico ci sarà, perché comunque la partita abbiamo giocato pochissimi giorni fa, abbiamo corso e giocato tanti minuti, quindi qualche risentimento, qualche cosa la pagheremo o comunque dovremo cercare di non pagarla facendo delle scelte anche in base a quello che hanno speso i ragazzi. Purtroppo non so tantissimo, non so che dirti perché non ci siamo allenati. Presidente, ieri abbiamo fatto poco e niente, hanno spinto un po' di più quelli che non avevano giocato e quelli che avevano giocato 120 minuti hanno fatto poco e niente, quindi oggi nel pomeriggio vedremo come stanno un po' tutti quanti nell'allenamento. asroma.com Vespasiani Buongiorno, buongiorno mister. L'altra sera ha detto, ho pensato a Juric, al suo agudimento nel vederci giocare 120 minuti. Io le chiedo, invece pensando al Torino, è una squadra che aggredisce molto la costruzione avversaria, dà intensità, come se l'aspetta? Beh, sono squadre difficili da affrontare, ma un po' meno difficili da inquadrare, diciamo, perché hanno una loro identità molto precisa. Iva Juric lo ritengo un grande allenatore, forse è stato il primo, se non uno dei primi che sono andato a spiare, a curiosare, col suo permesso ovviamente ed è stato gentilissimo, ha aperto le porte a Verona in quel periodo. Lo ritengo un allenatore forte, ritengo che il Torino di Juric sia forse la peggior squadra da affrontare dopo 120 minuti di partita, ma abbiamo tanti giocatori e ci faremo trovare prontissimi, come sempre. Penso che è una squadra difficile da affrontare, quest'anno hanno un rendimento dal punto di vista difensivo quasi da Champions League, dei giocatori di grande qualità, una bella realtà al Torino e un grande allenatore Juric, un bellissimo rapporto con il suo vice Matteo Parro. Sarà una bella sfida. Ricollegandomi anche alla domanda di Angelo, teme questo doppio effetto collaterale dopo questa lunga partita con il Feyenoord? Da una parte c'è anche un po' di sbornia post-vittoria e poi c'è la stanchezza. Faccio un esempio, l'anno scorso è un allenatore diverso, qualche giocatore diverso, però dopo ogni passaggio del turno la Roma nel turno successivo di campionato non ha mai vinto. Come si riesce a risolvere questa doppia problematica se c'è e se può essere anche il turnover un fattore? Non lo so quello che è successo l'anno scorso, non mi ricordo neanche che calendario ci fosse perché è ovvio che se dopo passi il turno il calendario devi far trovare la Juve o l'Inter è più difficile vincere che se incontri altre squadre. Questa è una partita tosta, sarà una partita tosta, però non mi parlare di sbornia perché se sarà tosta, perché entreremo con la testa sbagliata, lì allora vuol dire che io ho fatto tutto male, tutto. Perché a Frosinone ho detto che era un discorso tattico, che era un discorso delle mie scelte, che poteva aver condizionato il nostro brutto primo tempo, però due volte di seguito no, quindi l'atteggiamento che voglio vedere domani è l'atteggiamento di una squadra che entra in campo per vincere la partita, motivata, con grande intensità, perché per noi ogni partita è la partita della vita, qui adesso soprattutto per me che la vivo da poco tempo, siamo entrati, dobbiamo correre, non ci si può fermare, non ci sono battute del resto, soprattutto, sai, avessi già vinto la Coppa, è l'ultima di campionato, posso capire che magari c'è un po' di appagamento, ma abbiamo passato i sedicesimi di finale, insomma dobbiamo giocare altre mille partite per arrivare in fondo, quindi è bello festeggiare quelle serate, è bello godersene, però un'ora, due ore, tre ore, dodici ore facciamo, adesso c'è da preparare la partita e se la partita entra in una squadra ancora ubriaca di felicità, vuol dire che l'allenatore ha fatto un lavoro pessimo in questi giorni. E sul turnover invece? Sicuramente qualcuno verrà cambiato, come ho detto l'altra volta non mi piace fare il turnover che cambi dieci giocatori, però c'è stata una variante importante, c'è stata mezz'ora di campo in più, i rigori comunque danno una sorta di stress emotivo, ma anche fisico in più, la valuteremo oggi, onestamente tante volte vi dico, non so la formazione invece ovviamente non già la so, oggi è uno di quei giorni in cui voglio vedere come stanno i ragazzi, voglio capire anche come rispondono, ieri ho parlato ovviamente con quasi tutti loro per capire, al di là dell'entusiasmo, che tutti dicono sto bene, sto bene, ci sto, non sono stanco, per capire effettivamente se veramente sono in grado di fare una partita che sarà dispendiosissima come tutte le partite che giochi contro le squadre di Ivan Juric. Io volevo tornare un attimo, tu prima parlavi di atteggiamento e io vedo comunque un atteggiamento sempre diverso tra il primo e il secondo tempo, è una domanda che già ti hanno fatto nel post-gara col Feyenoord, però se poi dopo vai a vedere, con il Verona, col Cagliari, con l'Inter, con il Feyenoord l'altra sera, secondo me anche a Rotterdam, nonostante poi dopo la Roma pareggi nel primo tempo, c'è un diverso atteggiamento, un diverso atteggiamento, diversa voglia, diversa gamba, allora volevo chiederti, ma è un fattore di testa, un fattore fisico e poi proprio volevo riagganciarmi a questo, hai cambiato qualche cosa dal punto di vista fisico, perché a me la Roma prima sembrava una squadra, una sorta di diesel, cioè una squadra che partiva lenta per poi crescere nel finale, adesso è tutto l'opposto, cioè è una squadra che parte forte e poi dopo invece alla lunga tende a perdere qualcosa. Grazie. Qualcosa avremmo cambiato sicuramente, ogni allenatore porta la sua metodologia, ne abbiamo fatto sette partite, hai citato tre partite, per esempio Cagliari invece il secondo tempo abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, a Frosinone abbiamo fatto meglio il secondo tempo che il primo tempo, dov'è? Cagliari, hai fatto tre gol in 50 minuti, è là perché hai detto Cagliari il secondo tempo, siete crollati? No, no, nel secondo tempo abbiamo gestito normale, a Salerno forse abbiamo fatto meglio il secondo tempo che il primo, a Rotterdam abbiamo pareggiato la partita nel secondo tempo e abbiamo sofferto gli ultimi 10-15 minuti, col Frosinone abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, col Feyenoord abbiamo fatto, sai che c'è? Quella domanda che mi hai fatto te la puoi leggere in un'altra maniera? Fate veramente bene il primo tempo, sei proprio bravi, ma che hai cambiato nel riscaldamento, nella preparazione che è partita così forte? Ma non si possono fare 90 minuti ogni volta contro squadre forti? Io penso che nel calcio ci siano anche gli avversari, ci siano avversari forti, perché il Feyenoord, io non so, io non ho letto tanti giornali per il motivo di cui ho già parlato, quando si va bene, quando si va male non li leggo mai, ma non so se avete analizzato che squadra c'è il Feyenoord, insomma il valore di quei giocatori, probabilmente le future destinazioni di alcuni di questi giocatori, era una squadra forte, come l'Inter, dici il secondo tempo hai fatto il primo tempo, il secondo tempo hai fatto meno bene il primo, ma non puoi fare 90 minuti come abbiamo fatto il primo tempo con l'Inter, hanno preso le squalifiche per quanto si sono arrabbiati nel primo tempo, perché non erano abituati a subire così tanto, e il secondo tempo entra al campo l'Inter, ci sono squadre che decidono, adesso gioco io, può succedere, non deve succedere, dobbiamo migliorare, però io non credo che sia una cosa fisica, se no non avresti avuto l'occasione che hai avuto al 120esimo, subito dopo il calcio d'angolo dopo, poi ovviamente ci sono stati dei momenti in cui il Feyenoord ha spinto un pochino, ma al primo tempo siamo stati molto bravi e quella, l'obiettivo mio, il sogno mio è di fare tutti i 90 minuti come abbiamo fatto il primo tempo con l'Inter, come abbiamo fatto il primo tempo con il Feyenoord, come abbiamo fatto il primo tempo con il Cagliari, ci vuole un po' di lavoro, ci vuole un po' di tempo, ci vuole tanta qualità dell'allenatore, tanta qualità anche dei giocatori, e chissà magari domani ci arriveremo, adesso per come siamo in questo momento, dopo 40 giorni di lavoro, io non sono preoccupato, soprattutto non sono preoccupato della metodologia di lavoro, perché fisicamente noi abbiamo qualcosa che voi non avete, abbiamo i numeri, abbiamo le prestazioni, abbiamo la loro condizione, abbiamo il numero di accelerazioni, il numero di scatti per l'alta intensità, il numero di distanza, e c'è poco da essere preoccupati, secondo me. Grazie, Lomonaco, il Romanista. Ciao mister, senti, io volevo chiederti, Smalling le condizioni, l'abbiamo visto scaldarsi anche l'altra sera, so che è uno di quei giocatori che in assoluto quando stava bene, insomma immagino che sia un giocatore importante per una squadra, e quindi volevo sapere un po' le sue condizioni, volevo solo fare un attimo un passo indietro, perché non c'è stato modo di chiedertelo sul sorteggio della Coppa, insomma so che vai a affrontare una squadra forte che volevi evitare, è un allenatore che conosci anche abbastanza bene, e al quale forse anche nel tuo percorso di studio, di allenatore, ti sei anche ispirato. Grazie. Smalling sta bene, Chris sta bene, sappiamo che non può fare 90 minuti, abbiamo almeno questa convinzione, poi magari ci smentirà, quindi stiamo cercando di capire se è meglio farlo partire dalla panchina e poi buttarlo a partire in corso dentro, per fargli prendere minuti, o se farlo iniziare subito, e poi essere costretti a fare comunque un cambio dopo X minuti. Quindi stiamo valutando questo, però lui sta bene, si allena con gli altri, sta bene, lo vedo anche nei movimenti, nella corsa, lo vedo più sciolto, e quindi è una valutazione che faremo, ma proprio tipo nelle prossime ore. Sì, il sorteggio, in realtà sera mi hanno chiesto chi non vuoi, ho detto Brighton, perché penso che sia una partita difficile da preparare, è una partita aperta, giociamo contro una squadra forte che fa male a tante big in Inghilterra, in Premier League, nel campionato più difficile probabilmente del mondo, un allenatore che io stimo, a cui voglio bene, uno che non lo fa solo con me, ma con me in particolare è stato sempre tipo un libro aperto, abbiamo messo a disposizione i suoi allenamenti, i dati, le conoscenze, anche una parola di conforto quando sono stato esonorato, in più sta cosa che le nostre figlie si sono incontrate a Londra, sono diventate grandissime amiche, si beccano nei pub dei Roma Club a Londra per vedere le partite della Roma, è una cosa molto tenera. E' una figlia tua? Mia figlia? Sì, sì, insieme vanno insieme a fare tipo la Roma, immagino che la figlia la prossima partita non sarà lì con la sciarpetta da Roma, perché Elisabetta giustamente ti ferirà per il Brighton, ma tipo a Londra saranno insieme, la vedranno insieme e questa cosa probabilmente ci ha unito ancora di più, quindi è un allenatore che al di là del rapporto umano, al di là della disponibilità, io penso che sia un genio, un genio, proprio piacere, può piacere di meno, però sicuramente ha portato qualcosa di nuovo, portare qualcosa di totalmente nuovo, ci riescono solo gli allenatori geniali, io lo seguo, non troppo perché sai, non puoi scimmiottare chi è veramente geniale da quel punto di vista, sarebbe un danno forse, però lo ritengo uno di quegli allenatori, quei pochissimi allenatori che hanno cambiato qualcosa e che hanno portato qualcosa che tutti gli altri cercano di imitare, quindi il mio rispetto è proprio professionale, è assoluto, al di là dell'amicizia. Facciamo l'ultima, Cirulli, il tempo. Le volevo chiedere, prima ha parlato di stress mentale e fisico dopo 120 minuti, quindi uno di quei giocatori che ha dato sostanzialmente tutto è Lukaku, volevo sapere se ha parlato con il calciatore dopo l'occasione avuta al 120esimo, dopo il rigore, se domani può partire dal primo minuto, perché poi magari mettendolo in panchina si rischia un po' di buttarlo giù, e se quanto visto con il Fosilone, quindi Lukaku e Azmoun è andato un po' più avanti col tempo, Lukaku e Abram è una soluzione possibile. Parto dalla fine, il giorno che sono arrivato qui, mi sono presentato ai giocatori, ho visto Lukaku e Abram vicini e ho detto, questi li vorrei far giocare insieme, quindi è un'idea, però parliamo di un'idea che poi deve essere lavorata, allenata, studiata, andremo incontro a un periodo in cui Tami e Abram non sappiamo come starà, non penso che inizialmente starà al 100% come gli altri giocatori che non hanno perso i mesi che ha perso lui, quindi è un'idea che può piacermi, ma non è la certezza del mio futuro quando rientrerà Tami, idem se abbiamo in questo momento che abbiamo solo Serdar e Azmoun come vice attaccante, altrimenti avrei cercato di tenere Gallo, Belotti che è un altro attaccante importantissimo, ma l'idea mi era di giocare con una punta e di sfruttare un po' di più, diciamo, le tre quarti o le fasce esterne con quei giocatori di quel tipo lì e non mi ricordo che mai riesco, il momento è grande gioia, il primo che correva dietro a Miele sotto la curva, insomma festeggiato insieme a noi, il rigore sbagliato neanche l'abbiamo analizzato, toccato, i rigori si sbagliano, però quello che abbiamo analizzato è che al 120esimo è partito, ha fatto 50 metri di scatto fuori linea, ha dribblato l'avversario, ha tirato di destro e ha praticamente fatto gol, il portiere gli ha fatto un miracolo e se analizziamo che poi la partita alla fine è andata bene anche senza quel gol, lui arriverà e ci saranno i momenti che ha sempre vissuto, cioè che toccherà la palla, la butterà dentro e che ci porterà in trionfo, è molto tranquillo, è molto sereno, poi c'è tutta quella storia che conoscete tutti, gli attaccanti se non segnano per un paio di partite si avviliscono, ma abbiamo passato il turno contro il Feyenoord perché abbiamo pareggiato la data 1-1 e ha segnato lui, quindi non potrei essere più contento di tutto. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.